Ciao a tutti ragazzi! Buongiorno a tutti i miei simili e si facciano il mio canale da vedere un gioco di game x20 and ascm o se così è una cimenta di game x20 oggi video è sempre file come la piccola mentre giocheremo un altro gioco non giocheremo più al Climsy Ninja ma rigiocheremo ri quando dico ri attenzione che vi facciamo rigiocheremo a Kopf a FIFA mobile ad There la richiesta è fortunati però possiamo giocare a Pirata Craft a World of Cups anzi oggi ragazzi è un gioco bello che vi farò vedere a questo qui ragazzi ho intrappolato uno zombie davvero non sto scherzando guardate guardate mi sono messa ragazzi e l'ho intrappolato lo zombie è intrappolato e a me mi piace solo qui ragazzi chi vuole vedere come ho l'enderman posso anche farvi vedere l'enderman che lo metterò proprio qui sopra non so ragazzi dove si è finita però non me ne guardo figa ecco non è che si è andata in quella casa io ho delle cose come sempre ho delle cose ecco una è questa e l'altra è questa queste due sono cerco cerco sempre di lasciare lontani lì lì l'ho messo lì le mucche metto anche le mucche guarda ecco guarda guarda ho fatto il testo d'oro bello ragazzi entriamo qui è la mia casa però mi scrivo solo non ho citato la notte e quello nemmai notte e non posso più giocare se è andata vabbè in certa forza comunque ragazzi questo video si conclude qui oggi vi ho fatto soltanto vedere un gioco nuovo di forcecraft ragazzi questo video si conclude qui ci vediamo domani con un mega video e ciao raga ah tra poco ragazzi domani mi danno la scheda sim ah devo salutare devo salutare i miei amici saluto Gabriele Maci Nicolò Monte Carlo Lorenzo Caraccio Antonio Nesano e poi chi era l'altro Giuse Gilberto NVIDIA Gilberto NVIDIA poi Giulia Prato e e poi basta cioè non mi ricordo non è che poi aurora Natali e e Marte in video poi ragazzi se questo video si conclude qui spero che vi sia piaciuto per lasciare un bel like se vi vedete al canale ciao ragazzi grazie mille grazie mille